2004 io non sono di caprio mi porti da cracco io non sono di caprio dai fammi un ritratto io non sono di caprio sono di caprio io non sono di caprio io non sono di caprio e chi sei son testa da cazzo e ci ha messi i zettini di qui vedi che c'ha gli iniettori a doppia vedi che ci ha messo gli iniettori a poli indici all'insù hai visto un po stressato ma io non sono stressato niente questo è stanzato questo è stanzato sei contento della tua vita io sì ma contento di aver fatto quel che ho fatto ma io in mano vedo una tangente che c'è in mano la tangente non ho le saccocci per metterle a te le tengo tutte le mani quindi si è stato anche pagato oggi non vedi chi c'è il marchesino del grilletto che ci avete da dire i soldi io non mozzicare ecco guarda come tiene duro guarda come tiene duro sti 50 euro questo è pericoloso guarda la media hai capito sei uno stronzo se tu me lo stacchi dopo un altro trovo la posizione ma mi riccio ma non vendo dire nonna donna nonno non vedi che stacchi come su la mia nonna la mia nonna non Keith come su la mia nonna vedi che competita Grazie a tutti